Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ma che qui si sta parlando di bistecche? Frate io sto cucinando da due orette tre, oggi ho fatto un contenuto sembro il cerbero Non era l'ultimo giro ma sono un rincoglionito, allora siamo ancora live Cosa ne pensi di Matteo HS? Ma che cazzo me ne frega, sto giocando a grip, figa di Dio Che stai so, tre farfalle in boccia roccia Tre farfalle in boccia roccia faccio so 20 salva adesso giftate Grazie, Giorgio Eccole qua Oddio 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 Fai farfalle in boccia roccia Oddio Sgancia subito Sono veramente sce... Cioè, come senza parole, zio, cane. Dov'è vedere. Ti dirò la verità. Mi è uscito content e non me l'ha aperto. Quindi l'hai preso nel culo. Porco di Dio, porco Dio. Porca fonda. Io cazzo, il servo è tutta la stessa. Ancora il signore di Cristo. Oh, quanto è illegale. Mamma mia. Assi, per me, che aborto di squadra, porco Dio. 5-1, grandissimo Napoli. Che schifo. E occhio, perché c'è una nuova candidata per la vittoria dei youtuber Summer Cup. E si chiama Napoli. Sì, è stata una partita inaspettata, devo dire la verità. Sappiamo che siamo bravi. Tanti auguri a te. Tommasi contenta, non si può spiegare. Io non avevo nessun dubbio sui miei ragazzi. Abbiamo lavorato bene in settimana, l'abbiamo preparata benissimo. E... E... Ne, 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 ne. Riconosciuto il mister, è piacere. Piacere, è il mister? Sì. Siamo qua per vincere, non per motivare nessuno. Come, come... Che belle parole. Siamo qui per vincere, non per motivare nessuno. Andiamolo a risentire perché, mazza, non ho mai sentito una dichiarazione così di guerra. È il mister? Sì. Siamo qua per vincere, non per motivare nessuno. Bello, mazza. C'è Stefano, svento a papavere, brutto. Teo Pizzo, grazie per il 24, Paolo, grazie per il sabbetto di status. Vabbè ragazzi, ma questa è merda di coniglio, ma porco di Dio. Ma che è? Ma questo, sì, questo... Questi, eccoli, abbiamo trovato i proiettili di quella sparatoria in America avvenuta. Ce ne mangierà un ratto, ce ne mangierà. Finalmente abbiamo trovato i proiettili della K47 rinvenuto all'elementare. Senti, io me ne chiavo in bocca, tipo se... Mi sembra che Zaniolo abbia più margini di crescita di Zaniolo. Bah, ermic. Mo leviamo tutto, leviamo tutto. Ricordo sempre Amazon Prime per sabbarsi gratuitamente. Bellissimi. Chiappo e Namor. Shoeshix, Tommy, Davi, Palmi, Bird, Zucco di Frutta, Terry, John, Leonardo, Isi, Gianni, Dams, Dolfista, Baggigi, Antonio, Aec, Cinsipido, Federico, Fasanto, Ardo, Daniele, Bislungo Verde, Zardo, Leo, Samuele, Fedrux, Grizzly, Gabri, Jack, Sig, Alessio, Giorgione, Bonny Boy, Arrogante, Cercasi, Bentornati. Fius Ghe. Fius Ghe, ma perché l'Amici 2 fanno i coatti? Non so se mi stai ancora a guardare, perché l'Amici 2 fanno i coatti in campo, sul campetto? Se il buongiorno si vede dal mattino... Oggi molto bella la vista. Se il buongiorno si vede dal mattino, forse oggi, da qualche parte, sotto un treno ci ha andato un interista, signori. E' libero di non rispondere, no, perché io ho tutte le volte che entro nella tua stream, ma molto godibile, peraltro, bravo, mi piace il lavoro, come lo fai. Ma perché rispondi solo a una che si chiama Giulia? Ma... Ah! No! E' una... E scarichi Trackmania? Sì. Molto simile a questo... Un po' più bello, un po' più funzionale, gratis. Bello, ma... Però è gratis, bello... Oh, no, 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 però così no. Ma come avevo fatto a creare un torneo? Fica Orion! Avevo creato un torneo? Fica Orion, prima! Perché avevo... Come avevo creato un torneo? Fica Orion! Fica Orion! Eccolo qui! Eccolo qui, Boccio! Guarda, che spettacolo! Il cazzo del porco di Dio che me ne frega! Guarda quanto è bello! Come... Come raffinato, poi! Scusa, comunque! Dai, ragazzi, andiamo avanti con il nostro eco-scandaglio! Vai! Comunque il portiere della Juve è tipo Yardboss finale, le para tutte. Eccolo qui! Dai! Odde nella vita! È ovvio che nel momento preciso dell'ufficialità di bala alla Roma partono tre ore di stream in loop con Io che ballo con l'inno del Napoli di sottofondo. Penso sia ovviamente una roba... Cioè, già risaputa. Non sei un cattivo ragazzo, però come personaggio fai davvero cagare. Sei veramente molto disegutativo per i tuoi ragazzi. Il 30 è aprile-maggio-giugno, aprile 2018. Cosa succede? Ho visto adesso sotto al post di venerdì 13 di tipo... Oddio, c'è una bestemmia di o mattone. Ma per me non so bestemmie di o mattone, di o yogurt, di o banana. Su tutti i di... Il maestro? Il maestro? Marzo? Perché è il maestro? Marzo? Oh! Dimme! Che c'è dimme? Mi stanno a dir... No, Marzo, scusa, niente. Porco, che figuro. Vabbè, scusa, scusa. Non ti preoccupare, già. Puttana, Dio. Non è aprile, è marzo. Il 3 terzo... Eh, lo so, ragazzi. Dove cazzo sta il mio modo clown? Grazie, ognuno. Per le 5 sub giftate. Cashi, mi hai rotto il cazzo, Cashi! I coglioni me li hai squadrati!